Manca solo lui ragazzi, manca solo Saino, unico personaggio che ancora non possiedo e oggi proviamo a prenderlo Cronologia, un po' di ansietta, non ditelo a me, anche se sono abbastanza rassegnata Allora qui non dovrei avere un piti altissimo ragazzi, ho piti 11 Cioè di solito ho pullato, qui c'ho pullato la ganio, però poi ho smesso di pullare qui perché di solito mi portava sfiga a sto posto Però il mio posto del cuore è un po' questo Il banner è ottimo a livello di 4 stelle perché ci sono Kirara e Kuki che sono entrambi 4 stelle che mi servono Kirara ce l'ho C4, Kuki ce l'ho C2, l'unica che non mi serve è Sha Ling Spero sinceramente di prenderne il meno possibile in modo da finire le altre 2 4 stelle o comunque andarci vicina E poi chiaramente l'ideale sarebbe di vincere il 50 e 50 per Saino Ovviamente ragazzi le mie aspettative sono pari a 0 perché quest'anno ho vinto la bellezza di 0,50 e 50 Mi rimangono due occasioni per vincere almeno un 50 e 50 in tutto l'anno Una delle due è proprio Saino Guardate alla domanda quali 5 stelle vorresti se perdessi il 50 e 50? Sono sempre loro, Tinari, Deia, Jin Non Cici perché ce l'ho già ci sei ma l'ideale sarebbe vincere almeno un 50 e 50 Uno? Si può? Sono anche malata dai Spero che il gioco abbia pietà di una povera ragazza delirante in preda agli spasmi da febbre No veramente ragazzi se esce Saino è un atto di pietà Non è nemmeno un atto di culo È un atto di pietà nei miei confronti Guardate visto che sicuramente perderò il 50 e 50 Spero quantomeno di prendere subito il 5 stelle tipo la prima multi Così poi vado a piti secco da Saino Go 21 What the fuck Ho visto male, ho visto male Ho visto male raga Io ho chiaramente visto male Io ho chiaramente visto male Quello non era oro Quello era color pisciarello del 4 stelle e mezzo Quello non era oro Ragazzi vediamo cosa succede in questa multi Ovviamente andiamo subito con 4 stelle fuori banner Subet Subet proprio Questa è una bella bottarella eh Ma vaffani guarda Guarda non mi arrabbio solo perché l'avevo previsto E mi stai facendo risparmiare un sacco di soldi Schifosa Schifosa bambina bastarda Ragazzi è early Sono tipo a 4 di piti Però la streak continua Ennesimo 50 e 50 perso Abbiamo un'unica possibilità per vincere un 50 e 50 ragazzi E tra l'altro Cici è il primo 5 stelle che becco oltre la C6 Fantastico Unico lato positivo di questa maledetta rompimerloni è che ci garantisce Saino E adesso dovrei essere tranquillamente in grado di portarmelo a casa Andiamo a 15 E niente Non credo che avrò più una fortuna del genere Però Let's go Dai Chirarona Cucona Chirarona Anche perché questo è Oh Oh Finalmente C3 Dammi anche Chirara Dammi anche Chirara Questa non è Chirara Questa non è Chirara Questa non è Chirara Va bene 25 Go Dai 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 Adesso le Chirara Dai Chirara ne mancano due Adesso le Chirara e andiamo d'accordo Finalmente delle cookie ragazzi Ombretta Spadonsola E andiamo a 35 Let's go Bello Interessante Ma Cookie Sinobu mi sta amando in una maniera Io non ho mai visto Cioè la quantità di cookie che ho pullato stasera Sono la quantità di cookie che ho pullato in due anni Molto bene Però anche le Chirara Cioè cookie va veramente bene Però anche le Chirarine andrebbero bene Poi questo è doppio 4 stelle Quindi Bigliettozzo in mano Go Dai 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 Chirara Archetto Spadonsa Yes Ma yes Gattami tutta Chirara Gattami tutta Ci sei Finalmente delle pull come Cristo comanda sui 4 stelle E non le solite dragons fucking Bane Grazie Brava Chirara Brava 55 Adesso Saino puoi uscire Guarda mi esci In una multi Con l'ultima cookie Shinobu Siamo a posto Dai Saino Dai Saino Te devi impegnare Te devi impegnare Dai ultima cookie Ultima cookie E si gode Bello Bello archetto Spadino Bella Questa multi Momento Molto caliente Credivi la prima volta che sto a pull up Saino Dai L'ultima cookie A casa L'ultima cookie E tutti a casa Chirara ti amo Ma ti ho già finito Però mi fa piacere che Shaling Non è proprio venuta alla festa Sono le due Le due importanti Volete un po' di Chirara ragazzi Bevendo Go Ho 75 No 75 ragazzi Avete ragione voi Siamo sul pelo di Carmelo Siamo a 75 Mi dai l'ultima cookie Basta Chirara Cioè ti voglio bene Sei dolcissima Ma that's enough Fortuna che non pullavo per Shaling Comunque perché Shaling l'avete vista Tanto l'ultima cookie La prenderò un'altra volta 76 Andiamo di singoline Precisine Dai Saino Allora vi dirò Intanto Sono felicissima Perché il budget Era di due pack grandi Ma per fortuna Quella Cici Scabrosissima È uscita immediatamente E quindi Saino Non solo ce lo portiamo a casa Con solo un acquisto Ma abbiamo anche risorse da parte Per Navia E si gode Ho veramente pullato Benissimo I 4 stelle Cioè Chirara C6 E cookie C5 C5 È un risultato Di molto superiore Alla mia media Quindi Me a parte Sono molto contenta Ragazzi Non mi posso lamentare Ho finito il Pokédex Sono molto emozionata Di ciò Ho finito il Pokédex E Bravo Saino Ovviamente Non pullerò Nel banner armi Si tiene tutto per Navia E niente Sono felice Sono molto felice Bellino sei Siete pronti? Ve lo sto per far vedere Ragazzi Siete pronti? Lo vedrete poche volte Ancora nella vita Il Pokédex È Completo Gli abbiamo Tutti quanti Senza spendere Un capitale Siamo proprio Di una violenza Criminale Bravo Saino Congratulazioni Sei finalmente Arrivato In mezzo a questi Mattacchioni Io da te Mi aspetto tanto E se non performi Ti affogo Nel fango Questa penso Che la taglierò Da Youtube Vabbè Scusa Saino Non volevo Vabbè No Vabbè 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 Vi Vi Grazie a tutti.